Dopo i quattro appuntamenti dei cinque in programma di Pordenone più facile, l'iniziativa finalizzata alla raccolta di idee utili per l'elaborazione condivisa del nuovo piano regolatore della città, per lunedì 19 novembre a Palazzo Badini, il mattino dalle 10.30 alle 13 e il pomeriggio dalle 14.30 alle 17, è stato organizzato un laboratorio straordinario dedicato in particolare agli operatori del terziario. L'assessore al commercio Bruno Zille illustra l'iniziativa. Abbiamo pensato di fare questo incontro straordinario proprio per gli operatori del terziario, in particolare per quanto riguarda gli operatori del commercio, in quanto di solito negli incontri che facciamo di Pordenone facile al sabato sono impegnati per le attività. Quindi abbiamo considerato che lunedì è la giornata più opportuna per poterli farli partecipare. Tra l'altro dobbiamo dire che per quanto riguarda l'attività di carattere urbanistico programmatoria, il settore del commercio incide circa sul 60% per quelle che sono non solo le attività, ma quelle che sono anche tutti gli aspetti di carattere programmatorio. Sarà un momento importante anche per quanto riguarda il commercio, soprattutto per quanto riguarda la programmazione relativa ai piani di settore. Nel laboratorio saranno trattati tre argomenti, attrattività e struttura urbana, competitività e struttura distributiva e nuove dinamiche di consumo.